Buonasera a tutti amici di Villain from Video Games, io sono Ame, il vostro Villain from Video Games, ripetizione terribile che potevo non fare e benvenuti a un piccolo video dedicato al NES, che si chiama proprio NES, il Nintendo Entertainment System, vi l'ho detto malissimo che serve praticamente in Netflix dei giochi di Nintendo praticamente si è scoperto da pochissimo, non so se tu lo sai, dopo vi dirò anche con chi sto parlando che praticamente è stato scoperto che l'emulatore che fa questi giochi è lo stesso del NES e del Super NES Mini quindi è molto probabile che in futuro, oltre a questi giochi del NES, troveremo anche altri giochi del Super NES o comunque verranno aggiunti via via dicendo dei giochi che appunto un pochino più moderni oltre quelli del NES e con me ovviamente, visto che volevo provare in due questo nuovo NES, c'è ovviamente mio fratello che vuoi salutare? Buongiorno Buongiorno Anche se sono le 9, state guardando queste video le 9, non importa, buongiorno comunque e niente, noi volevamo provare un pochino di giochi insieme, proprio roba, tipo farvi vedere un clip di 3-4 minuti di un paio di 3 giochi, poi ci dite voi se volete che andiamo a scoprire altri giochi prendiamo 3 giochi io ve lo penso di fare Double Dragon, Dottor Mari insieme e magari andare a vedere, vabbè, intanto iniziamo con questi due e poi magari fare Balloon Fight se c'è in due quindi con un Double Dragon che non funziona proviamo il... proviamo... stai fermo proviamo cosa? Dottor Mari a vedere se funziona qualcosina io non ho mai giocato a un Dottor Mari, un Dottor Nite o comunque... come l'hai girato, scusa? con questo qui sopra deviamo evitarli quei germi, credo no, devi ucciderli e lo scopo di Dottor Mari è uccidere i germi con... impilando 4 colori uguali ah, me l'ha mangiato? io li ho uccisi tu e come hai fatto? eh, devi mettere tipo sul giallo, devi mettere 3 gialli sopra ah, ok, quindi gliele devo proprio mettere sopra, gliele devo mettere start, allora, mettiamo invece di 10, mettiamo... no, mettiamo 8 facciamo 7, 7, va bene 7 iniziamo con l'8 no, aspetta facciamo... no, sempre medio, sempre medio, vai ecco, vedi, è un po' pochino più fattibile con un 7 è veramente molto più fattibile così no, no porca... ehi, sai qual è il problema? è che andando con questi scattoni è... è difficile capire quando mettere il pezzo c'è per esempio un Dottor Mario però con la risoluzione moderno cioè comunque con il framerate moderno sarebbe veramente molto figo va bene ecco, ecco, ho fatto la cazzata vai, infilati lì benissimo ah, ho perso io oramai ah, ho perso, mi sa ah... niente, ho perso riproviamo vai, 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 vai ah, guarda, questo è il numero di vitt... ecco, con le corone lì non lo so non lo so si, sarà il numero di vittorie io ci credo sto facendo piano piano poca alla volta ma... è così che bisogna fare no! sto sbagliando sto iniziando a sbagliare un botto oh! uh... scassato giuro che non riesco a capire cioè il fatto che vada così a scatti anche quando giro il pezzo non riesce a coordinarti bene anche perchè appunto sono... ah, perchè vedi... proprio l'immagine es... esattamente ok uh... buono già uno l'ho eliminato ok, questo l'ho eliminato vai giù te perfetto vabbè tu vai giù qui benissimo benissimo dato dei pezzi bene, 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 bene anche tu adesso me ne hai mandati e che cazzo però hai vai il recuperone il recuperone che schifo che ho fatto vai qui nessuno se lo serve mai aspettato un recupero del genere sono un fire adesso che ho capito le meccaniche ok, questo lo posso mettere di qua ragazzi voi non ve lo state... puttana eva quanti me ne mandate voi non ve lo state immaginando ma siamo veramente super concentrati che è veramente difficile e che cazzo no ho sbagliato però posso fare così mi sono salvato in cornerissimo vai giù te bastardo ok no 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 cazzo eh mi sono partiti i tasti mi sono partiti eh allora vediamo questo possiamo ai so che si può giocare in due ai so che giochiamo in due ai so che cosa cosa non lo so siamo partiti? non credo no ok cosa come funziona? aiuto aiuto è bellissimo dai passi l'ho preso l'ho preso l'ho preso no fifa fifa dei tempi questa credo ci sia solo un tasto due massimo attenzione parte in contropiede niente nooo non ci credo attenzione non è vero non ci vuole credere nessuno c'è in mario sport mix è vero no no non ci voglio credere non ci voglio credere era il gol era vicinissimo qualcuno gliela prendo per favore lo sei riuscito a fare i gol no non riuscivo a tirare non capivo non ci voglio credere prendete no vai 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 almeno uno almeno uno no da lontanissimo ci ho provato il portiere grande ci proviamo da lontanissimo nooo è finita è finita 4 a 1 tutti vanno su su cosa nintendo cosa? cos'è questa? cosa succede? no cosa? non lo so 6 secondi 3 secondi 0 nintendo non ho capito non ho capito non ho capito che è successo ma va bene ah si cambia campo adesso si cambia il campo queste regole dell'ho che noi sconosciute lo scontro è fisico è così violento che nessuno più capisce un cazzo nessuno capisce niente il mio personaggio dov'è? dov'è il mio? chi sto controllando veramente? nooo non riesco a capire chi sto controllando quello che brilla in modo brutto si ma era fanculo quello che brilla in modo brutto talutalissimo ci prova attenzione attenzione no attenzione prendetelo al portiere e il portiere mi ammazza si il portiere non puoi menarlo guarda i dribbling i dribbling signori quanti sono in difesa non lo so troppissimi bravo portiere bravissimo attenzione secondo gol il canada vuole recuperare il canada avanza nooo non ci credo un 6 a 2 che rimette nell'incubo il canada il canada hockey fortissimo conoscitissimo il canada hockey cazzo no si autogol il canada ci crede di nuovo attenzione i suoi dribbling sono fortissimi sono no no una battaglia che non possiamo perdere oddio oddio si stavano mosecchilando di brutto cosa sta succedendo le ponte arriva l'arbitro ci squalifico tutti anche là guarda l'arbitro guarda l'arbitro ci squalificato davvero ha squalificato un giocatore tuo non ci credo non ci voglio credere ma non è colpa mia non ci voglio credere me l'ha squalificato ma che gioco è questo ma io non ci credo oddio ma io non ci voglio credere l'arbitro cornuto bastardo in attenzione la riprende ci credono anche se sono in pochissimi 6 e 4 il canada è tornato in gioco il canada in 3 in 3 uomo quando rientra il mio uomo porca troia no rientro bastardo vieni qua io comunque non ho capito ancora come passare la palla che non si possa più chiare solamente non me la fa no boh non è vero non è vero un 7 e 4 non è vero stavamo recuperando attenzione 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 allora se clicchi 7 e 5 se clicchi se clicchi però devi dargli una direzione però devi dargli se tu tieni premuto passa invece devi dargli però se tieni premuto A credo devi dare una direzione sono tornati in 4 sono tornati in 4 sul campo signore 4 sul campo ci credono portiere fenomenale che paratone che ha fatto una paratone non ci voglio credere 7 e 5 dai dai pulite la ste roba veloci 7 e 5 qui questa è una battaglia veramente super e devi tenere premuto anche la direzione non ci credo attenzione è forti è forti non ci credo non ci voglio credere non ci attenzione attenzione si si 8 a 6 sempre con i due gol guarda come i pixel come si intrecciano il portiere io ti passo tu mi stai passando la palla ma ci credo anche perché perché anche tu credi nel canada il canada 8 a 7 8 a 7 nessuno ci voleva credere prima di adesso smilzo avanza guarda con i suoi dribbling unambolici nessuno capisce più niente nessuno no il gol era lì il recupero dell'8 l'8 a 8 attenzione no big boy non è il tuo turno oh mio dio oh mio dio oh cosa è successo no te l'ho ripassata non è vero non è vero 9 a 7 non ce l'ha mamma il canada non ce la fa a recuperare non ci credo si nooo ah però ci puoi controllare anche il portiere nella parata ah quando ti avvicini a un certo punto in area di rigore viene cambiato al portiere e puoi parare con lui non ce la fa si perchè ho visto che prima lo stavo riuscendo a muoverlo vai smilzo vai smilzo vai smilzo recupera per noi smilzo vai smilzo io devo farci un mio personaggio grande smilzo vai 10 a 8 si l'unico problema è perdere il proprio personaggio lo prende smilzo smilzo è il goleador di questa partita no mamma mia lo smilzo lo smilzo 10 a 9 si non brilla l'unico problema è che non capisci quando è il portiere attenzione 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 non si può fare una roba del genere eeeh cosa è successo attenzione il contropiede il contropiede non è vero non è vero non ci vuole credere nessuno non ce l'ho non ce l'ho fatta pararla credo ci sia un altro set credo ah no non è vero è finita 3 set ci sono 11 a 9 finisce bel bellino è molto molto bellino proviamo un altro proviamo l'ultimo e poi direi che possiamo effettivamente chiudere facciamo tennis un bel doppio facciamo startiamo livello facciamo due che non si sa mai c'è Mario là adesso che sei io sono quello che batto io sono quello davanti vai lol ok lol scusate scusate è il mio primo giorno qui pallo attenzione mi scusi mi scusi mi scusi arbitro nooo arbitro nooo 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 quando devo quando devo battere adesso sii mamma mia troppo forte questo tennis vai nooo nooo ho dovuto fare il vuole lo stesso aspetti un attimo ok vai adesso oh siiii vai vai dove lascia male a me questo vai ce l'ho preso attenzione nooo che schiacciatore questo è tuo edo bravissimo mamma mia 40 40 signore nessuno sarebbe sarebbe aspettato questi due novolini del tennis da strada questa è tua eh questa questa è mia mia no è tua grande siiii su un faccia lo prendo abbiamo vinto il primo game credo vai si primo game attenzione porca troia vai amico wow bella si primo primo game vinto da tu e non cam adesso ci sono io non prenderla è mia non prenderla è questa è forte la prima deve prenderla ah no non è palla vuole la prima palla deve prenderla sempre il dottor allora vai avanti nel lato di dietro vai avanti cazzo attenzione è da mio è mio no ma mi sei hai ridato un game bellissimo cazzo di sole battute vince eccolo eccolo bravo bravo coglione vai che ti sta racchettata te non devi parlare vai che ti sta racchettata nel culo è mia è mia beccati questa è mia è mia è che questo non è vero ce l'ho fatta come come impossibile mamma oh cazzo dai dai che abbiamo vinto questo set e che cazzo che ribatte il primo grandissimi e mi disposto 2-1 è mio dove cazzo va veccati questo bravo oh 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 no mi sposto è un problema è tuo questo eh vai bravissimo fortissimo Come non devo prendere Diamante Merda Guardalo Guardalo è fortissimo Quando non è fallo Quando è È battuta buona Cazzo arbitro Spiegaci ste regole di merda Mamma mia è fortissimo Vai vai Tocca te Dove cazzo L'hai mandata Oddio È andata proprio in culo È mia No non è tua Come ho detto vai te Vai È mia Questo Porca troia Porca troia Faccio io Come l'ho detto Ma porca troia Porca troia Dai prenditi questa rivincita Prendi ragazzo Prendi Te la muori Muori Troppo lunga ragazzi La finiamo qui Fai con questa battuta La finiremo in questa In questo set Ho lavalo a spacca In questa partita Questa partita Ho lavalo a spacca Se vincono loro Vincono loro Se vinciamo noi Mi ha vinto noi E tu Bravissimo Attenzione E vai Allora abbiamo detto Ho lavalo a spacca Chi vince questa vince tutto Prendi la troia Ma porca troia Prendo io Prendo io Prendi la prossima volta Dopo che la capisci Prendi Ok Tu è andata Perché è andata così Alcuno Devo prendere l'altra parte Non ne ho idea Devo prendere l'altra parte Dai 40-30 Arriviamo a 40 pari Vai Edo Chi vince questa vince tutto E abbiamo perso E basta Ha venuto ufficialmente Il computer E ho definito Anche questo video Perché Ci siamo rotti le palle Del tennis Vi ringrazio Se volete Altri giochi Del NES Ditecelo E Ve li porteremo Forse Se non facciamo così schifo Ero